ciao a tutti per la nuova puntata di one minute fitness parliamo un po di attività fisica ma quanta attività fisica dobbiamo fare tutti i giorni perché ognuno dice la sua però secondo te ma io credo che intanto sia fondamentale che ognuno si trovi ogni ritaglio di tempo ogni alibi possibile per muoversi il più possibile quindi evitare di usare l'ascensore passeggiare la macchina più lontana fare qualche scala in più sì 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 assolutamente quello quello prima di tutto siamo diventati un pigri certo e poi certo che fare un'attività fisica regolare del tipo andare a correre piuttosto che andare in palestra anche una camminata tutti i giorni 30 minuti certo evitare magari di prendere mezzo pubblico magari fare due passi più uscire dieci minuti prima la mattina e fare due passi ecco basta poco basta poco è davvero è davvero più semplice di quello di quello che sembra fare fare attività fisica per stare bene poco ma tutti i giorni con costanza limitare al massimo tutte quelle attività da divano sedentare che può guardare la tv giocare ai videogiochi stare davanti al computer delle ore se non a quel minuto al giorno per guardarsi assolutamente assolutamente fare attività fisica è davvero importante la salute prima di tutto buona fitness a tutti ciao ciao alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.